Grazie. Che stava dicendo? Mi fanno male le costole e devono essere lussate, mostrando la famiglia di giornale all'ospedale di Smirionis, perché non si possono ingessare. Al limite possiamo mettere una fascia elastico. Il colmone è enorme elastico, dunque le costole si gonfiano e si restringono. A seconda della forma del polmone che prendi, se uno li ingessa, rimangono fisse, dunque il polmone può anche scoppiare, diciamo. Scoppiare, magari proprio scoppiare no, però rimane compresso, capisce? E non è una cosa buona, è una cosa che arricchia dolore al polmone. Conosco anche io questi dolori? Sì, come mai? Lavora nel campo della medicina. Della musica? Della medicina. Sì, nella musica, io sono un fratello musicista. Ah sì? Sì, anche bravo, è uno dei più bravi chitarristi di Cagliari. Chitarrista? Chitarrista e canta. E cosa canta? Fanno rock blues. Fanno i concerti? Sì, fa concerti. Musica vecchia e in più fa anche il fonico. Il fonico sarebbe quello che prepara il palco con il mixer per gli altri gruppi. Sì, è un esperto di suoni. Mh? È un esperto di suoni. Mio fratello sì. Io suonavo la batteria però ho lasciato, ho abbandonato. Io sono un artigiano, costruisco gioieri. Sì, però non in oro, uso argento perché è un materiale prezioso. Gli orafi hanno una parte intera. Ogni 7,50 di orafi è diverso da ogni orafo. Sembrano uguali, ma ogni orafo sono 7,50. Però l'argento lo posso lavorare. Poi lavoro l'acciaio inox che a me piace molto. Lo so proprio soprattutto perché non ha nickel e non dà allergia. Poi inox perché è inox inossidabile. Non si arrugginisce. Dunque rimane sempre bello. E poi lavoro il rame smaltato. Smaltato perché c'è di tanti colori. C'è addirittura anche viola. C'è arancione scuro, arancione chiaro. C'è verde. E io lo faccio filigranato anche, quello fine fine. Però non lo deve raschiare. E quello non dalla macchia verde. E non ha nickel. A meno che non lo raschi. Se lo raschi allora ritorna il rame che c'è sotto. Mi capisce? Però all'acqua è resistente. Infatti io consiglio ai clienti di sì. Per l'acqua lo possono lasciare. E poi lo dico, è un gioiello. Dunque, non fatevi il baglio per un gioiello. Rischiate anche che si ammorbidiscano le dita al palmetto d'anello. Ma non è vero. Scusi, lei ha il negozio? No, io lavoro, sono un artista di strada. Lavoro, faccio bancare la strada. Di solito dove si mette? Allora, i miei punti sono uno qui in via Dante, fuori dalla Coina. Poi mi metto il via Mano. Il via Mano lo sa dove è vicino alla libreria Coco. Cosa se la conosce? Sì. Poi in via Garibaldi mi metto dove ci sono quei parcheggi tondi dove prima c'era il cinema. C'era presente. Che sente giù e ci sono quelle transenne tonde alla fine di via Garibaldi. Se no vicino alle edicole alla farmacia. C'era presente. Sì, ma io ho fatto a quarto però. Anche a quarto ho lavorato. A quarto facevo il mercato, il mercoledì. Al mercato? Ogni tanto, non sempre. Adesso è da molto che non lo faccio. Facevo il mercato però siccome è dentro, è pieno di Senegalese. Niente è il contrario perché io non sono l'accesa. E mi mettevo fuori. I vigili e i motori mi dicevano cosa. Però fuori c'erano quelli della pescheria. Lei dice, i gioielli con il pesce non è che vanno molto dapporto. Però intanto mi facevano lo spazio. E proprio nel pesce si avvicinava un sacco di gente. Perché per la roba da mangiare la gente si cucina. E comunque gli articoli piacevano perché sono uno, la verità. Io lavoro in treccio. Sono lavorato anche a saldatura, ma quelli li faccio andare. Io invece quando sono per strada lavoro sul momento. C'ho tutte le pinzette, c'è il bastone per le misure. E dunque la gente mi vede proprio creare articoli. E dunque anche a quelli della pescheria. Non davo fastidio. Anche perché il mio banco è piccolino. È un metro e mezzo per un metro. Dunque non rubo tanto spazio. Infatti venivano i vigili. Non lasci lavorare il ragazzo. Non sta facendo niente di male. Anche così ci rende allegro l'ambiente. E ci rende anche i clienti simpatici. Perché... Ah, grazie signora. Grazie. Sicilissimo. Grazie. Grazie a tutti.